ciao mi ha ciao buongiorno oggi inauguri la nuova rubrica ritratto di dove parleremo un po della tua storia sei pronto pronto allora classe 1994 nasci a san pietro in slovenia nell'immediata periferia est di gorizia come è stata la tua infanzia ma la mia infanzia era tranquilla senza tanti pensieri e anche molto molto bella con tanti belli ricordi e per questo sono anche grato tanto da mia da mia famiglia da miei amici che veramente ero bellissimo vivere la tua è una famiglia di sportivi ce la descrivi un po si è vero io vengo da una famiglia molto sportiva il mio papà era prima calciatore dopo è diventato allenatore in calcio mia mamma è giocata palla e volo e anche mio fratello è giocato un po di basket sì quando ero piccolo siamo siamo andati sempre con la famiglia a guardare le partite di mio papà quando era allenatore senti tu nasci tra l'altro in una terra di confine proprio a due passi dall'italia e quindi tu l'italiano l'ha imparato da piccolo sì quando guardi da alto dal volo queste due città schempeter e gorizia si sembrano che è una città e perciò da tante cose la mentalità cibo e magari calcio non così tanto però siamo sempre legati abbiamo anche imparato tanto da italia e perciò sì ho sentito quando parlano italiani e per questo mi anche mi ha aiutato tanto quando sono arrivato in italia che conosciuto da tante parole e così mi mi è stato più facile questo questo periodo ma senti cosa rappresentava l'italia per te quando eri ragazzino e sì soprattutto abbiamo guardato veramente calcio italiano e questo calcio che abbiamo guardato era veramente in uno livello altissimo non come diciamo in slovenia che non era non era così alto e perciò era sempre un sogno di giocare in italia in calcio italiano la tua carriera in slovenia gira attorno alla città appunto di lubiana e all'olimpia con cui poi vinci il campionato sloveno e tra l'altro volevo capire che tipo di calcio è quello sloveno che ha prestato tantissimi talenti ai campionati europei tra l'altro anche all'italia quando avevo 15 anni sono già andato a casa a ljubljana e lì con l'olimpia ljubljana ho vinto il campionato sloveno che anche mi ha portato in nazionale prima chiamata in nazionale si in slovenia secondo me abbiamo tanti tanti talenti tanti talenti giovani si lavora bene con con il giovani settore giovenili e perciò sono anche tanti giocatori sono diventati giocatori grandi come per esempio anche valter birsa jossi pilicic che che sono giocati anche in calcio italiano e tu che calciatore sei descriviti con tre aggettivi parlare di me stesso è sempre un po difficile no però quando mi guardo su tv quando guardo qualche analisi è così vedo che sono un giocatore tecnico con tanta tanta voglia di aiutare la squadra questo secondo me anche un punto molto molto importante per le tutte le squadre che ho giocato io e volevo sempre fare il gol o assist e senti quali erano i tuoi riferimenti quando eri più ragazzino ce l'hai detti anche prima ma a chi ti ispiravi sì come ho detto quando 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 devo dire un giocatore era valter birsa perché lui anche nato dallo stesso la stessa città come io siamo stati 200 metri da distanze e perciò è stato sempre lui dopo come ho detto sono stati molti giocatori che hanno giocato in top club e anche per esempio uno che mi adesso è venuto è anche luca modric che ho giocato una volta contro lui è in croato e fa la stessa posizione e mi piace tanto quindi ispiravi un po a tutti loro mi ispirava anche adesso no quando gioco io in questo livello sono ancora un po le tue ispirazioni sì 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 ma è per esempio anche adesso magari sono mie ispirazioni non così legati a calcio però sono tante persone che vedo ogni giorno che sono tanto con con loro e queste persone mi ispirano perché non voglio avere un ideolo perfetto però voglio avere le persone che fanno magari anche errori però così imparare tante cose no gennaio 2017 arrivi in italia all'empoli quali erano le tue aspettative come ti immaginavi un po al calcio italiano e poi come è stata diciamo la la realtà sì primo club all'estero era empoli e quando adesso guardo indietro sono veramente felice perché sono scelto di questo club che era un club giusto per me che lavorano veramente bene con con giovani ragazzi e mi hanno sempre aspettato fine a dio porta ho diventato un giocatore e perciò sono molto contento che ho fatto la questa scelta e sì sono prima volta che ho giocavo all'estero non avevo non avevo tanto che rifatto tante aspettative sì 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 e per questo non è stato proprio facile 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 però il calcio è in vita è sempre così devi abituarsi le nuove cose e dopo alla fine è andata veramente bellissimo poi l'esperienza della turchia un mondo nuovo sia nel campo sia fuori dal campo e ci racconti un po com'è andata in generale sì questa scelta è arrivata un po non mi aspettavo e ho fatto questa scelta veramente in ultimi giorni di mercato però quando guardo adesso indietro sono contento che ho fatto questo passo avanti perché sono andato a fenerbahce a turchia e in fenerbahce più più grande in in turchia che ce l'ha più di 30 milioni fan e perciò era veramente bello giocare lì con questi tifosi con questo ambiente con con la gente che veramente sente questo calcio e per me anche la prima volta che giocavo per un club dove c'è tanta pressione tanti fan che ti aspettano ogni ogni partita che 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 fai bene e perciò sì era una scelta per me giusta anche ho imparato tanto non sono in punto di vista di calcio però la mia vita personale perché ho visto tante cose che prima non ho visto anche la cultura differente sì assolutamente ma infatti a proposito della tua vita anche un po' personale cosa non è mai mancato in tutte queste esperienze all'estero mi spiego può essere una persona o magari un qualcosa che ti portavi sempre dietro la fidanzata sì sono tante cose che tanta tanta gente tante cose che mi hanno aiutato sicuramente sono miei genitori mia mamma papà e mio fratello che sono stati sempre vicino a me anche la mia fidanzata lara è stata dall'inizio fino adesso è stata sempre con me e mi aiutata di tante cose e perciò per queste per queste persone sono veramente orgoglioso che ce l'ho in fianco mio forse avere queste persone al tuo fianco ti ha anche aiutato poi nell'adattamento di tutti questi viaggi adesso facciamo un piccolo gioco io ti dico una frase tu la devi completare giocare con kevin e milan è bellissimo perché no è veramente mi piace giocare con loro due perché siamo magari tutti tre giocatori un po diversi abbiamo le qualità un po diverse e così quando giochiamo insieme veramente facciamo le giocate giuste e possiamo anche possiamo anche aiutare tra gli altri no ora dimmi perché adesso che sei a genova è più buono il pesto o la kranska klobasa e dimmi anche se lo dico bene no bene bene kranska klobasa per me perché come abbiamo parlato prima sono sempre vicino la italia e questo pesto e pasta mi è sempre piaciuta perciò a me mi piace più pasta al pesto però anche kranska klobasa è un cibo mantieni anche le tue tradizioni non le abbandoni no no non si abbandonano le tradizioni ok invece come ti trovi a genova in generale con questa città sul mare dove vivi ma mi trovo veramente bene anche la società mi hanno accettata benissimo il primo giorno quando sono arrivato tutti i miei compagni giocatori ma anche tutti che lavorano in club mi hanno aiutato tanto e mi da primo giorno mi sembra che siamo una famiglia e anche in genova in città mi piace tanto perché è una città vicino al mare e questo mi piace veramente che già in istanbul sono stato vicino e anche qua e quando è più caldo io sto meglio ora ti chiedo se il miha zaic di quando era ragazzino vedesse il miha zaic di oggi cosa direbbe sarebbe contento è difficile però sì sicuramente ho sognavo sempre di giocare in questi livelli calcio in livelli internazionali e all'estero e perciò in questo punto di vista sono sicuramente contento però una cosa mi fa magari più piacere o sono più orgoglioso che da tutti questi anni che gioco fuori ho imparato tante cose che mi anche servono in vita privata e perciò questo mi fa veramente piacere grazie mille mi ha grazie